benvenuti io sono il cencio e questo è un nuovo episodio di silent hill 2 remake nell'ultima puntata abbiamo finalmente ottenuto l'accesso alla corte dove abbiamo trovato la seconda monetina e abbiamo fatto la conoscenza di eddie abbiamo parlato poco 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 del suo personaggio perché ancora non c'è molto da dire in realtà noi sappiamo ma per quello che abbiamo visto finora non ci sono altri spunti di riflessione ma abbiamo approfondito un po il discorso bullismo vittimismo e quanto il suo modello sia secondo me il miglior modello di questo remake è veramente è veramente bellissimo continuo a ripeterlo e non vedo l'ora di vederlo nelle cazze in future perché perché è una figata allucinante ora facciamo un attimo il punto della situazione con le cuffie che mi stanno pure abbandonando mamma mia allora qui abbiamo il piano terra noi abbiamo avuto l'accesso alla corte ma non abbiamo controllato il cancello che sarà sicuramente chiuso che ci porta verso il parco rosewater qua sopra non l'ho minimamente guardato uno scorso episodio quindi ci andremo adesso inoltre anche la 101 la stanza o l'appartamento come volete che prima c'era precluso adesso dovrebbe o perlomeno potrebbe essere accessibile bisogna andare a controllare ma cosa più importante abbiamo aperto l'accesso a queste scale nord che se le seguiamo ci portano al secondo piano dove c'è anche un salvataggio e ci dovrebbero portare anche al terzo piano che non abbiamo controllato quindi probabilmente potremmo esplorare di tutto di più abbiamo anche visto come il gioco non è che mi vada benissimo to hell all'inferno non è che mi vada benissimo nelle aree aperte dove c'è tanta di questa bellissima nebbia procedurale qui poi ragazzi in questa piscina è devastante e sparare è veramente tanto 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 problematico per me qui ma proprio tanto ho notato curiosando un po che hanno fatto una no non ci credo non ci credo ma questa è la mappa del silent hill 2 originale è lei l'ho riconosciuta subito guardala qui questa è la mappa del silent hill 2 originale non la posso vedere adesso no mi fa vedere solo non mi fa vedere solo queste però forse dall'inventario forse dall'inventario south vale no questi sono gli appunti mappe eccole qui che è leggermente diversa ma questa è è proprio quella almeno me sembra proprio quella sembra proprio quella vediamo che dice qua woodside apartments the gate is open from 8 am till 7 pm outside those hours request assistance at the reception quindi dice il cancello aperto dalle 8 alle 19 in orari diversi richiedere l'assistenza alla reception per aprirlo e ora immaginiamo proprio sia chiuso con ben due lucchetti e un catenaccio mica da nulla arrugginito ma insomma di sicuro non l'apriamo a mano oltre non si vede quasi nulla solo un'automobile una bici vandalizzata dove dovrebbe essere qui la 101 eh già ma è una finestra questa quindi noi non avremo mai accesso alla stanza 101 ok a meno che no non posso proprio neanche avvicinarmi ok va bene quindi niente 101 mi ha segnato il gate perfetto mi ha segnato che il cancello è chiuso e possiamo cioè non abbiamo altra scelta se non dirigerci alle nuove scale che abbiamo sbloccato quelle interne più a nord che ci consentiranno di accedere al terzo piano ah già prima di andare al terzo piano fermi tutti fermi tutti io ho un ricordo che voglio vedere se è stato mantenuto o la cosa è cambiata te stai ferma lì eh non ci sono altre sorprese no? no ecco perché il vestito è esaminabile anche nel vecchio era esaminabile io l'altra volta stavo parlando dei manichini mi son distratto e non l'abbiamo esaminiamolo un po' no l'avevo fatto questo mi sa solo questo non dice nulla il nostro amico James non dice nulla se non il fatto che vabbè molto bello non so se è voluto o è un caso però l'ho notato anche l'altra volta il gioco di ombre che il manichino è senza testa la testa del manichino vedete poggiato lì dietro e l'ombra proprio va a tappargli la bocca spoiler in coming bello grosso sappiamo che James ha soffocato Mary l'ha uccisa lui soffocandola con un cuscino e ripeto non lo so se questo è un caso non credo sia un caso però il fatto che la testa di questo manichino sia poggiata lì dietro e venga proprio no quasi appunto soffocata dall'ombra del manichino stessa è un po' particolare è un po' particolare chissà chissà se è voluto o no io mi ricordavo non so se mi ricordo bene o male perché ora è un po' che non rigioco l'originale Silent Hill come vi dicevo se non sbaglio l'ultima volta che l'ho giocato è stato proprio quando ve l'ho portato qui sul canale da allora non ho più rigiocato Silent Hill 2 ma mi pare che James avesse da dire qualcosa sul vestito mi pare forse ricordo male chissà quindi le scale sono queste il secondo piano è quello che abbiamo aperto ok con il lucchettazzo il terzo piano non ha la porta l'accesso al tetto anche qua non c'è l'atmosfera si fa molto inchiudante quindi non possiamo accedere alla 317 15 16 14 in nessun modo vediamo la 13 nemmeno la serratura è è luminescente quasi vedo già dall'altra parte un manichino oh era un manichino una line figure l'ho vista laggiù in fondo in fondo nel buio per un attimo e poi se n'è andata comunque qui invece possiamo accedere alla 311 facciamo prima un giro del corridoio principale così capiamo aspetta un attimo mi era comparso il coso per la chiave no no era semplicemente la chiave luminescente questi angolini munizioni 4 quindi qui è tutto stanno ristrutturando avremo accesso a ben poche cose credo questa però ce la dà come se ci servisse una chiave forse è chiusa dall'altro lato sapete perché vedete nella mappa non ce la segna come rotta ce la segna come chiusa ma non ho interazione non posso interagire con la serratura quindi penso che sia chiusa dall'altro lato qua c'è la sorpresa eccone uno lì allora se io spengo la luce e me ne vado zitto zitto piano piano funziona mamma mia è pieno ok però qui ha funzionato tenere la luce spenta ha funzionato ora lì sopra c'è il manichino sotto e lì sopra c'è una bevandina energetica quindi potremmo rischiare un combattimento per una bevanda energetica un combattimento che potrebbe diventare molto facilmente un 2 contro 1 perché io nel combattere contro di questo schivandolo potrei finire addosso a questo e aggrarlo e poi non posso combattere la luce spenta se devo combattere devo accendere la luce quindi lo aggro per forza guardalo lì ok mi ha fatto malissimo no è un po' strano il discorso luce vedete ora l'abbiamo angrato con la luce è veramente un po' strano il discorso luce il combattimento contro i manichini è per ora il più bello in assoluto non è non è vittima degli stessi problemi dello stesso problema perché alla fine è uno solo che ha il combattimento con le line figure per colpa di quell'attacco che sembra bloccabile ma non lo è ed è molto bello è molto schiva di qua schiva di là contraattaccati schiva lui è bello molto bello mi piace proprio combattere contro i manichini molto bello bastarda no eh no l'ho appena detto mi fai le robe delle line figure fammi capire mi ha fatto due volte un attacco che pensavo di poter bloccare invece non l'ho bloccato siamo a rosso bevandina vediamo un po' ok non siamo full ah no io qui prima sono sicuro di aver visto ma come io sono sicuro qui oltre questo blocco eh si è proprio questo sono sicuro di aver visto delle gambettine muoversi scusami dentro il kit del pronto soccorso ci sono i proiettili una nota ah cosa non ne ha senso non ne ha senso è scritto male forse è un modo particolare di scrivere I know quella che sembra una S ok mannaggia fatemi leggere il biglietto leggi no leggi nel senso questo di dietro c'è nulla intanto si allora prendiamo per buono che sia una W I know there is something here I know I can feel it it all looks normal but it's not it's underneath pulsing trying to get out is it trying to get out or should I get in I have to uncover it rip it to the surface peel it off layer by layer so I can see it I know it's there è un biglietto delirante dice so che c'è qualcosa qui lo so me lo sento all'apparenza sembra tutto normale ma non lo è è sotto palpita cerca di uscire vorrà uscire o sono io che devo entrare devo scoprirlo riportarlo in superficie e nel retro strappare strato dopo strato per poterlo vedere so che è lì sarà un indizio sull'enigma o semplicemente la follia che divampa ok qui è dove abbiamo combattuto poco fa quindi qua è libero perfetto qui dentro sono i problemi ok abbiamo un manichino alla porta sapete che forse il discorso della luce maledetto no non lo so ho sbagliato stavo per dire sapete che forse il discorso della luce si applica ai manichini che sono fermi e che ti aspettano tipo questo no tipo quello lì vedi e poi dopo con questo l'ho visto anche qui sono andato a luce spenta e mi si aggrato lo stesso quindi è un po' inconsistente non si capisce bene come al solito come funziona questa luce perché sembra che veramente mal si applichi una cosa che mi fa gracchiare la radio così tanto sembra davvero che mal si applichi a ai mostri che già sono in giro e che passeggiano quella porta sarà apribile o no dove dovrebbe no già me la dà non apribile perché quella che ho di fronte ed è bloccata quindi non è apribile possiamo solo accedere alla 312 però io voglio provare comunque non mi fido vieni vieni ok vedete adesso l'ha grata la luce questo è stato proprio odio bella facciamo la verifica what ok non c'era bisogno di farla però va bene almeno adesso siamo sicuri al 100% ah da qui forse no mi vuoi dire che metà del terzo piano non è minimamente esplorabile stato di salute ci sta una bevandina ritorniamo full sepevo adesso tanto guarda quante ne abbiamo questo è già è già bello in forma ma non mi ha non mi ha cagato è un trappolone bella la siringa non ne avevamo più da un bel po' sono molto contento di trovarne una dove è andato quel manichino passeggiante di là guardalo qui maledetto lo sapevo lo sapevo mi si aggrava comunque ero troppo vicino qui quindi vedete gliel'ho bloccato opla no James bella bella quella ammazzata finale i was wrong i was wrong i was wrong no i wasn't but i wasn't entirely right i need to peel off more something more blood close i was looking outside but it is inside it is in me there is someone inside me oddio mi sbagliavo mi sbagliavo non mi sbagliavo ma non avevo del tutto ragione devo strappare di più più vicino al sangue oddio cercavo all'esterno ma è dentro di me c'è qualcuno dentro di me madonna mia e qui mi sa che ha strappato un po' vicino al sangue oh la nostra cassa di lattine di bloody apple di bloody apple io mi ricordo benissimo che questo ci serve proprio qui ci serve ce l'hanno messo proprio accanto a dove serve è il posto giusto è il posto giusto ci hanno messo accanto cavolo l'ultima moneta l'ultima moneta e questa era la porta esatto che ce la dava chiusa ma non rotta una salvatina no 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 salviamo sempre dal fondo dove è caduta eccola questa è la fanciulla la maiden qui chiamata come donna sul retro una lapide oddio 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 t'ho visto che ti sei mossa sai ma dove sono andato aspetta ho sbagliato strada infatti allora dovremmo avere tutto quello che ci serve per risolvere questo bellissimo enigma perché sono 3 bright coins quindi 3 monete lucenti in the 5 holes B nei 5 buchi stanno first sits the maiden underneath the tree quindi prima siede la fanciulla sotto l'albero quindi questo vuol dire che la fanciulla va qui the wind from behind the maiden don't blow a beautiful flower alone has to grow il vento da dietro la fanciulla soffia un bellissimo fiore da solo deve crescere il vento da dietro la fanciulla soffia è un bellissimo fiore da solo deve crescere and here comes the man so slick and so fine in the pale moonlight his eyes don't shine quindi e poi dice e infine arriva l'uomo e qui arriva l'uomo così slick tipo slanciato snello atletico in forma è così bello che nella pallida luce lunare i suoi occhi scintillano quindi la luna è quassù l'uomo presumo vada qui ma mi vuoi dire che è uomo fanciulla fiore the wind from behind the maiden don't blow a beautiful flower alone has to grow sembrerebbe troppo facile tipo uomo fanciulla fiore però sembrerebbe così leggendo in italiano vediamo se mi dà un'impressione diversa in cinque fori tre brillanti monete prima sotto l'albero la fanciulla vedrete quindi la fanciulla al centro qui non ci piove soffia il vento da dietro la fanciulla un bel fiore cresce solo nell'erba tranquilla vabbè arriva poi l'uomo raffinato e bello alla pallida luce della luna i suoi occhi lucenti come cristallo un bel fiore cresce solo nell'erba tranquilla il vento che soffia da dietro la fanciulla mettiamola ok la fanciulla torna perché la fanciulla è rivolta verso sinistra e dietro sarebbe qui il fiore quindi sarebbe come vi dicevo uomo fanciulla fiore questo è l'ordine andiamo andiamo a parlare di questo enigma poi proviamo a risolverlo effettivamente parliamo un attimo del significato di questo enigma perché una delle cose meravigliose di questo Silent Hill non inteso come questo remake ma di questo gioco di Silent Hill quindi vale anche per l'originale perché queste cose le aveva anche il Silent Hill originale ne avevamo già parlato ma una piccola cosa va detta questo era uno dei motivi principali che esaltavano la serie di Silent Hill dall'impeccabile dal punto di vista del gameplay Resident Evil che era il colosso di quegli anni era il survival horror di riferimento è praticamente Resident Evil il videogioco che non attenzione non ha inventato il genere di survival horror perché già esisteva inventato dai primissimi Alone in the Dark ma ha ripreso quel genere lì l'ha migliorato in una maniera assurda sotto tanti punti di vista e l'ha reso famoso e praticamente tutti negli anni 90 nella loro testa avevano l'espressione survival horror uguale Resident Evil va bene perché a buon ragione perché Resident Evil vi ripeto dal punto di vista del gameplay è quasi impeccabile mi riferisco a Resident Evil 1 in particolar modo ma anche Resident Evil 2 non scherza per niente sono due capolavori allucinanti e erano come vi dicevo il punto di riferimento di survival horror ma una cosa secondo me hanno sempre avuto un po' di carenza Resident Evil i Resident Evil facevano del loro punto di forza l'ho già detto 3-4 volte il gameplay questo è importante perché dobbiamo capire la differenza per questo lo ripeto in continuazione ma non riuscivano o meglio non sono mai riusciti a legare bene tranne per qualche rara eccezione perché qualche rara eccezione c'è all'interno soprattutto dei primi due Resident Evil non riuscivano a legare bene gli enigmi con la storia di gioco perché perché la storia di Resident Evil è un po' B-movie molto e volutamente B-movie per B-movie si intende quei film horror in genere horror poi non per forza horror ma spesso i B-movie sono horror quei film di serie B appunto quindi di seconda categoria di bassa lega di bassa qualità che a volte sono volutamente di bassa qualità è un modo ricercato di fare del cinema un po' particolare pensate che c'è anche un intero genere cinematografico che si chiama cinema trash che sono film volutamente ridicoli volutamente forzati volutamente esagerati perché devono come dire piacciono per quello ecco è il loro punto di forza quindi vengono fatti volutamente brutti e come si suol dire dopo sono così brutti che fanno il giro diventano belli ok i B-movie sono simili ai film trash molti B-movie in genere quasi tutti i film trash quasi sottolineo quasi quasi tutti i film trash sono trash intenzionalmente la maggioranza dei B-movie non è B-movie intenzionalmente ok diciamo che il trash nel trash il 90% dei film sono volutamente trash nei B-movie il 50% dei B-movie sono volutamente B-movie e Resident Evil ha sfruttato intenzionalmente la trama e lo stile degli horror B-movie ok quindi non c'è questa gran profondità di trama l'abbiamo visto non voglio fare spoiler però per chi non ha seguito le serie ci sono anche qui le serie sul mio canale sia di Resident Evil 1 che di Resident Evil 2 le potete andare a vedere tranquillamente però evito di fare spoiler perché qui è una cosa diversa non stiamo parlando direttamente di videogiochi mi sembrerebbe quindi brutto farmi uno spoiler ma insomma le trame di entrambi Resident Evil non è che siano chissà che c'è sempre questa associazione questa questa casa farmaceutica la Umbrella Corporation che fa un disastro con un virus e scoppia l'invasione zombie che mangiano tutti bla 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 e c'è questa squadra speciale la Starz che investiga e cerca di risolvere la faccenda o perlomeno sopravvivere al disastro causato dall'Umbrella e la trama ma sostanzialmente tutta qui c'è un paio di colpi di scena buttati lì qualche tradimento qualche intrigo un po' di robe interessanti ma niente di eclatante non arriviamo assolutamente ai livelli visti qui in Silent Hill no? e qui arriviamo al punto di forza che Silent Hill stupì tutti i fan dell'epoca perché se facciamo una ricostruzione cronologica dei survival horror come vi dicevo abbiamo io vi cito solo i più importanti perché ovviamente nel mezzo ce ne sono stati tanti ma non ci interessa a noi parlare dei tanti in questo momento ci interessa solo parlare di più importanti abbiamo avuto Alone in the Dark che ha inventato il genere di survival horror poi abbiamo Resident Evil uno che ha ripreso quel genere quasi sconosciuto di nicchia ha dimenticato e l'ha innalzato all'ennesima potenza rendendolo uno dei generi videoludici più famosi ed importanti degli anni 90 se non forse potremmo dire addirittura ci potremmo spingere un pochettino a dire il più famoso ed importante negli anni 90 è difficile questo a dirlo dovremmo parlarne molto e in realtà non ne sono convinto neanche io però ecco se uno mi dicesse guarda secondo me i survival horror sono senza ombra di dubbio il genere più importante degli anni 90 beh non me la sentirei mica tanto di dargli torto capite volendo ne possiamo parlare ma insomma non me la sentirei di dargli torto quindi capite la situazione in cui è nata Silent Hill Silent Hill è arrivato come ultimo arrivo come no il bambino che arriva da fuori quando tutti sono già amici lui arriva dopo e si inserisce forzatamente nel gruppo che succede che spesso viene escluso dal gruppo perché è l'ultimo arrivato quindi questo bambino deve avere qualcosa di speciale per farsi accettare subito dal gruppo e attenzione Silent Hill il primo Silent Hill è stato un successo spropositato immediato immediato non è uno di quei titoli cult che sono diventati belli nel tempo è il caso di Silent Hill 2 attenzione ma non di Silent Hill 1 Silent Hill 1 uscì badonna non si parlava d'altro mi ricordo non si parlava d'altro fu un successo strepitoso perché perché sebbene Silent Hill lo sapete che io lo amo sebbene però Silent Hill sia un po' più carente dal punto di vista del gameplay rispetto a Resident Evil non ha quella quell'eccellenza quella perfezione survival horror è quello che intendo survival horror quindi per esempio manca completamente la gestione dell'inventario in un Silent Hill l'esplorazione è molto più sui binari è un po' diverso secondo me comunque non riesce a superare quella praticamente quasi perfezione che aveva Resident Evil ma malgrado ciò è riuscito a farsi valere grazie a una cosa che è sempre mancata in praticamente tutti i survival horror prima di Silent Hill ovvero il suo porre le radici così a fondo nella psicologia quindi nell'horror psicologico gli ha permesso di creare dei puzzle degli enigmi che non fossero lì solamente come intoppo come ostacolo come sfida da superare per andare avanti ma fossero parte integrante della narrazione un enigma che non solo è una sfida da superare ma che ti spiega anche un po' di storia anche un po' di trama questa cosa mancava ripeto tranne qualche eccezione perché c'è qualche bella enigma indubbiamente anche in Resident Evil 1 e Resident Evil 2 e anche in Alone in the Dark se vogliamo nei primi Alone in the Dark ma Silent Hill questa roba ne ha fatto l'eccellenza e lo possiamo già vedere per esempio da questo questo mobile questo bellissimo mobile che è il ripiano su cui si sviluppa l'enigma vero e proprio ve l'ho già accennato è un mobile questo che parla delle dualità della vita che parla degli opposti vediamo a sinistra la notte con la luna e le stelle a destra il giorno con il sole che splende potentissimo in cielo al centro abbiamo un albero che è per metà fiorito per metà secco questo ovviamente è una bellissima rappresentazione della vita non solo degli opposti ma della vita perché l'albero da sempre è utilizzato come simbolo della vita per mille motivi per mille motivi questo accade sia perché è in buona parte grazie agli alberi se noi possiamo vivere ma possiamo dire lo stesso anche dell'acqua e del sole volendo ma anche perché l'albero rappresenta un po' in un certo modo il ciclo della vita nel suo nascere crescere e appassire per poi rinascere ricrescere riappassire rinascere ricrescere riappassire l'albero da sempre con le sue diramazioni ha ispirato la fantasia dell'essere umano accumulandolo a proprio una metafora della vita e qui infatti non è da meno perché vediamo un albero come vi dicevo per metà fiorito e per metà secco qui di nuovo la dualità la vita il fiorire lo sbocciare dei fiori e i rami secchi spogli senza foglie senza niente la morte la fine l'inverno capite c'è anche un'altra cosa bella che voglio farvi notare come sono posizionati questi opposti perché vediamo la metà morta dell'albero è dalla parte del sole mentre la metà fiorita dell'albero è dalla parte della notte ok la notte il buio il freddo lo potremmo associare molto più facilmente alla morte che non alla vita mentre il giorno con il sole splendente caldo vivo ci viene più facile associarlo alla vita che non alla morte invece qui è stato fatto il contrario un po' come nella figura dello yin lo yang cinese un elemento bellissimo che dice proprio questo quel simbolo spiega non solo la natura degli opposti del bianco che si oppone al nero ma mostra attraverso quei due piccoli pallini al suo interno come all'interno del bianco ci sia sempre un po' di nero e come all'interno del nero ci sia sempre un po' di bianco questo proprio a specificare che nulla è assoluto nulla è totale non esiste la totalità nell'universo non esiste un qualcosa che è assoluto un qualcosa che è così punto e bianco e basta non esiste il bianco e il nero ma esiste sempre una sfumatura di colori che tende magari più da una parte o più da un'altra ma non è mai netta c'è sempre del bene nel male c'è sempre del male nel bene sempre non ci sono eccezioni sempre e qui lo vedete è stato ricostruito è stato ridisegnato in modo che ricordi lo yin e lo yang l'albero morto sta al sole esattamente come il pallino nero nello yin e lo yang sta nella parte bianca la metà dell'albero fiorita sta nella parte della notte esattamente come il pallino bianco sta nella parte nera dello yin e lo yang è bellissimo ragazzi questo mobile è bellissimo io lo vorrei per me lo vorrei in casa è meraviglioso quello che ovviamente questo mobile questo ripiano per questo enigma si concentra maggiormente il suo messaggio finale come vi dicevo quello della vita e degli opposti nel nostro caso visto quello di cui stiamo parlando l'importanza maggiore ce l'ha il discorso uomo-donna perché come il giorno e la notte il caldo e il freddo la vita e la morte sono due opposti anche l'uomo e la donna sono le due facce della stessa medaglia sono i due opposti ed è quello poi di cui si va a parlare nell'altro enigma addirittura un episodio più indietro vi avevo detto come spesso nella simbologia storica umana l'uomo spesso viene associato a Thanatos la donna viene associata ad Eros Thanatos è quella forza interiore che spinge alla morte all'autodistruzione comunque alla distruzione del tutto mentre la donna associata all'Eros l'Eros è quella quella forza che spinge al contrario spinge alla creazione spinge alla procreazione spinge a a creare invece che a distruggere ok e qui abbiamo queste due parti con queste monetine che rappresentano un uomo una donna e un fiore andiamo a guardare queste monetine adesso perché ne è giunto il momento mi scoccia perché guardando le monetine scompare la musica ma noi facciamo così e lo freghiamo e questa musica bellissima ritorna abbiamo la musica la ciao la monetina dell'uomo che ricorda un po' l'uvui ricorda un po' mi fa sempre ridere quando la vedo sta roba che ricorda un po' un 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 signore di vecchia conoscenza che io ci rido e ci scherzo però perché lo ricorda perché vedete come è stato rappresentato l'uomo in questa monetina potevano rappresentarlo in mille modi l'uomo il maschio la figura la parte maschile dell'essere umano potevano rappresentarlo in mille modi e invece l'hanno rappresentato in un modo ben preciso naso un po' aquilino un po' austero sguardo severo orecchie grandi testa pelata un uomo molto austero molto imponente no? severo duro lo vedete? questi lineamenti un po' cadenti del volto degli zigomi un po' il doppio mento come un uomo diciamo ben nutrito quasi un po' grassottello che se la passa proprio bene no? una figura quindi che ben si applica al Thanatos che vi dicevo addirittura diversi episodi fa no? a quella figura di non negatività però di di distruzione di di buio ok? di morte in questo caso e appunto non è un caso che nel retro ci sia la spada la spada è l'elemento è l'oggetto per ferire è l'oggetto per uccidere per eccellenza l'essere umano si è fatto forza della spada per secoli e secoli e secoli per non dire millenni per uccidere ma anche per difendersi comunque vada la spada non è per esempio che ci tagliavi la legna come l'ascia la spada serviva a una cosa sola non ci tagliavi neanche l'erba come la falce per esempio non ci raccattavi neanche il grano come il forcone la spada aveva un solo scopo che era quello di uccidere vuoi per aggressione vuoi per difesa ma lo scopo della spada quello è uccidere e è dietro alla moneta dell'uomo del maschio abbiamo poi una bellissima donna che in realtà nell'enigma viene chiamata giustamente la fanciulla la maiden la vergine la signorina non viene detta semplicemente donna è importante questo perché altrimenti si sarebbe chiamata woman ok invece è maiden maiden come vi dicevo sta a indicare la signorina pura prematrimonio no che possiamo chiamarla tranquillamente signorina fanciulla vergine come volete quindi una una femmina pura libera da ogni cosa ma bendata rappresentata bendata con una tomba dietro e qui iniziamo a capire qual è il senso in queste monete di questa doppia immagine fronte-retro l'uomo austero severo aggressivo quasi con una spada la donna bendata incapace di vedere con una tomba dietro morta è ovvio no è ovvio che si rifà adesso spoiler adesso noi che sappiamo come sono andate le cose che si rifà ovviamente alla storia tra james e mary james è l'uomo che uccide mary capite la spada è il simbolo dell'aggressione ma nel mezzo abbiamo un'altra moneta il fiore il fiore che qui mi fa sorridere perché là si parla proprio di fiore quindi il fronte ci si aspetta il fiore invece il fronte è un serpente è il retro il fiore è strano perché questa moneta è invertita rispetto alle altre e sinceramente così su due piedi non ho un'idea precisa del perché questa moneta è stata invertita rispetto alle altre perché a regola il fronte doveva essere questo e questo il retro e invece no è il contrario ma qual è il senso di questo fiore il fiore il fiore è una delle cose più belle esistenti al mondo il fiore è un'esplosione di colori di profumi è una gioia per gli occhi per il naso per le mani è una gioia per tutti i sensi il fiore veramente ti basta guardarlo perché ti cambi l'umore in positivo il fiore si porta ai malati per rallegrarli si porta in segno di scusa si porta in segno di augurio capite il fiore è proprio un qualcosa di universalmente bello ed apprezzato proprio per questa sua capacità di essere meraviglioso in tutti i sensi lo tocchi è morbido è soffice è piacevole al tatto è profumato è una cosa strepitosa voi pensate addirittura che ci sono molti fiori moltissimi fiori dalle proprietà terapeutiche moltissimi fiori che hanno delle capacità ma anche semplici pensate le persone semplicemente che soffrono di allergia e quindi che sono allergiche a determinate fiori voi pensate che ci sono altri fiori che possono controbilanciare questa cosa cioè che praticamente fanno così tanto emissioni di polline che riducono il polline negativo nell'aria quello che è negativo perché causa allergia a queste persone sensibili e migliora la qualità della vita di queste persone insomma il fiore che universalmente è un qualcosa di positivo di bello di attraente associato però al tempo stesso ad un serpente ad un serpente animale che è altrettanto bello meraviglioso però per me che adoro gli animali tutti i tipi di animali in genere il serpente è sempre visto come un animale bastardo capite perché perché è un animale estremamente pericoloso per l'uomo non perché sia cattivo non perché sia maligno il serpente è tutto tranne che cattivo e maligno il serpente fa la sua vita fa i cavoli suoi e se tu hai la sfiga di pestarlo o di spaventarlo rischi un morso morso velenoso che facilmente porta alla morte per questo sempre visto come un animale nella storia un animale negativo quando l'essere umano ancora aveva difficoltà a comprendere un po' il regno animale a rapportarsi con esso e vi dicevo un animale da sempre considerato bastardo infame perché sta nascosto nel suo cespuglio zitto zitto non lo senti perché striscia non emette suoni tranne ovviamente qualche eccezione tipo il serpente suonagli o l'aspide che ti soffia ma insomma l'aspide quando ti soffia a volte è troppo tardi ma ecco in genere il serpente non lo vedi non lo senti perché appuro si mimetizza e quando lo vedi e lo senti è troppo tardi ti becchi un morso che ti uccide molto facilmente quindi spesso non è un caso che anche nella metafora di Adamo ed Eva è il serpente il tentatore dall'albero delle mele che tenta Eva a prendere a cogliere la mela l'animale infame ci potevano mettere di tutto su quell'albero un passerotto un piccione una cornacchia una scimmia un gufo ci potevano mettere quello che vuoi ma invece in quell'albero c'era il serpente l'animale bastardo per eccellenza quindi perché il fiore come vi dicevo qualcosa di universalmente bello meraviglioso positivo paragonato alla bastardaggine all'infame al traditore se vogliamo così che ti becca a tradimento il fiore qua può voler dire mille cose il fiore può indicare la purezza di questa fanciulla quindi la sua verginità che l'uomo la figura dell'altra moneta dell'uomo che vuole cogliere vuole prendere vuole fare sua vuole possedere capite è l'obiettivo può essere quello ma può anche ma può anche rappresentare semplicemente la bellezza e la purezza della fanciulla no senza nessuno sfondo sessuale ovviamente noi sappiamo che ne è strapieno di richiami di natura sessuale questo Silent Hill ma non sarebbe sbagliato escludendo completamente il sesso in tutta questa faccenda perché comunque non c'è cosa più bella di una giovane donna anche escludendo completamente la natura sessuale della cosa è proprio una cosa bella la sua purezza la sua ingenuità la vita che che raccoglie è veramente un contenitore di vita e ripeto non in senso riproduttivo ma proprio è un qualcosa di pazzesco il maschio è sempre corrotto dalla violenza da mille altre cose la femmina sotto questo punto di vista è molto più pura soprattutto quando è giovane quando ancora non è in balia dei suoi ormoni poi lì subentrano tante altre meccaniche beh è qualcosa di bellissimo e questo fiore può benissimo rappresentarlo ma questo serpente rappresenta se vogliamo molto facilmente può rappresentare la tentazione capite come la tentazione è stata rappresentata nella metafora di Adamo ed Eva con il serpente che tenta Eva nel raccogliere la mela qui tranquillamente possiamo decifrarlo come il serpente come la tentazione che ha l'uomo nel cogliere questo fiore nello strappare via questo fiore ma anche come l'inganno perché alla fine la fregatura che sta nel cespuglio in cui tu non lo vedi ci metti il piede ti morde sei morto la potremo vedere anche così come la fregatura che sta nell'anelare questa bellezza eliminiamo completamente il discorso tentazione quindi quello che vi ho detto prima perché ci sono varie ipotesi ci sono varie chiavi di lettura eliminiamo completamente il discorso tentazione prendiamo solamente la bellezza la purezza del fiore quindi il candore della fanciulla il maschio lo vuole ma lo vuole non con intenti malvagi non con secondi fini semplicemente è ammaliato dalla bellezza del fiore dalla sua purezza e lo vuole anche lui e questo forte desiderio questa questa pulsione potentissima è proprio quella che alla fine andrà a rovinare il fiore perché il fiore una volta che lo cogli si secca pensateci bene non c'è modo di preservare in eterno un fiore dopo che l'hai colto quando tu vedi un fiore quello che vuoi di più in assoluto è raccoglierlo farlo tuo portarlo con te nella sicurezza nel calduccio della tua casa metterlo in un bicchierino con l'acqua per preservarlo per poterlo osservare tutti i giorni per far sì che nessun animale lo mangi lo sciupi lo calpesti e invece è proprio quel gesto di raccoglierlo fatto nella più totale buona fede che lo uccide e lo porta a seccarsi e quando il fiore si secca a meno che ovviamente non vengono usate determinate tecniche ma quando il fiore si secca diventa l'opposto di se stesso da una bellezza da uno splendore incantevole diventa una delle cose più tristi e deprimenti in assoluto pensate ai fiori appassiti quanto sono simbolo di tristezza di decadenza di depressione sono proprio l'esatto contrario del fiore ed è proprio quell'atto è proprio l'atto di coglierlo lo ripeto e lo sottolineo nella totale buona fede quindi non con l'intenzione di estirpare quel fiore al suo ambiente naturale fargli del male distruggerlo ucciderlo no no proprio quello di preservarlo di poterlo osservare meglio di poterlo curare al meglio non si può non si può fare no eccolo il serpente la fregatura la bastardata che tu pensi di fare del bene in realtà fai del male queste sono tutte possibili chiavi di lettura di queste monetine ma vi rendete conto ma solo alcune ma solo alcune perché poi se ci vogliamo mettere qui anche con la tomba si potrebbe parlare di tanto si potrebbe parlare della versione sarda della donna i sardi hanno una visione bellissima e strepitosa della donna e della femminilità che a differenza di buona parte del resto del mondo non tutta perché la stessa cosa ce l'hanno anche in altre culture io ora uso i sardi perché siamo italiani stiamo parlando in italiano e ci capiamo meglio tra di noi chissà quanti amici sardi che ci sono che mi stanno seguendo che capiranno subito quello che voglio dire c'è insomma una cultura bellissima in Sardegna riguardo la donna che si differisce molto con quella del resto d'Italia ma anche con quella di gran parte vi dicevo del mondo in cui spesso la donna viene vista solamente come colei che dà la vita come vi dicevo la parte pura la parte bella la parte genuina l'amore la fertilità la riproduzione eccetera eccetera mentre lì viene vista proprio nella sua interezza come colei la donna è colei che governa la vita ma anche la morte erano le donne nella Sardegna antica chissà ma anche oggi sicuramente queste tradizioni vanno avanti nei posti un po' più rurali e meravigliosi della Sardegna in cui erano proprio le donne ad occuparsi di tutto ciò che riguardava la morte non tanto a uccidere in combattimento ma uccidere per pietà a praticare l'eutanasia si praticava l'eutanasia in Sardegna prima che poi diventasse illegale perché adesso in Italia ve lo ricordo l'eutanasia è illegale ma prima che diventasse illegale si praticava tranquillamente l'eutanasia in molti luoghi della Sardegna si praticava l'aborto ma questo si praticava in tutta Italia in realtà è sempre stato un argomento tabù l'aborto in Italia ma lo si è sempre praticato chi è che faceva gli aborti? le donne capite? cioè uccidere la vita che sta nascendo è proprio l'antitesi della vita stessa è proprio l'incarnazione suprema della morte ed era sempre la stessa figura la stessa figura che procreava la stessa figura che dava nuova vita al mondo era anche la stessa figura che toglieva la vita toglieva la vita agli anziani malati e morenti toglieva la vita ai bambini non ancora nati vuoi perché malati vuoi per mille altri motivi ok? è una cosa molto interessante questa quindi si potrebbe capite reinterpretare completamente tutto il discorso delle monetine semplicemente rigirando un po' il discorso a questo punto la tomba dietro la donna non è più il fatto perché Mary è morta ma perché la donna nella sua purezza rappresenta la vita nel suo completo nel suo totale quindi non solo la vita ma anche la morte perché come si diceva guardando questo bellissimo cassettone non esiste la notte senza il giorno non esiste la vita senza la morte capite? quindi se la donna rappresenta la vita tutta non può rappresentare la vita tutta senza rappresentare anche la morte perché non esiste la vita se non esiste anche la morte quindi insomma questo discorso per farvi capire la complessità simbolica metaforica di questo se vogliamo semplicissimo enigma ne parlo da mezz'ora e non ho detto niente nel senso che ho detto in realtà molte cose ma ci sarebbero ancora così tante altre cose da dire che potrei starci qui un'altra ora tranquillamente un'altra ora a parlare però so che poi esagero quindi credo di avervi dato un'idea credo di avervi dato un'idea quindi proviamo a risolverlo questo enigma vediamo un po' che succede la fanciulla sta sotto l'albero dietro la fanciulla da solo cresce il fiore quindi dietro la fanciulla di qua ma non vicino alla fanciulla da solo cresce il fiore che qui in realtà è un serpente e l'uomo se ne sta al chiarore della luna quindi tutto di qua posso ruotare? e non è finito qui oh Dio quanto è bella questa filastroca oh Dio quanto è bella ragazzi l'uomo si avvicina con la lama sguainata il suo volto scompare dietro l'arma affilata bello anche in italiano la fanciulla fugge l'albero è costretta a lasciare corre verso il fiore lontana dal guerriero deve scappare bellissima 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 perché alla fine è un racconto di ciò che è successo tra James e Mary loro si incontrano lei proprio la donna messa proprio sotto quest'albero guardate che figura strepitosa l'immagine della donna proprio su quest'albero che divampa da lei mezzo fiorisce mezzo appassisce mamma mia che spettacolo ma l'uomo che arriva mostra la sua spada e lei è costretta a scappare via da lui che cosa abbiamo sbagliato ancora the man dot approach his blade now revealed ah si approccia quindi si avvicina where once grew a flower a venomous glee where once was a maiden but a stone doth be and over her grave the man doth remain his blade never met the vile serpent's vein ma che cazzo di capolavoro avete scritto ma che roba è dove un tempo cresceva un fiore una gioia velenosa vabbè dove un tempo c'era una fanciulla una pietra riposa molto bello questo e sulla tomba l'uomo resta persistente poiché la lama non ha mai tolto la vita al serpente madonna questo enigma è bellissimo è bellissimo quindi l'uomo si avvicina ancora mette via la spada poiché la fanciulla muore con il serpente the beast who hits teeth in her flesh doth bore he who failed she who is no more madonna questa frase the beast who hits teeth in her flesh doth bore he who he who has failed she who is no more è di una bellezza madonna ma ma chi cazzo ma chi l'hanno fatta scrivere questa roba la bestia che con i suoi denti la carne di lei ha bucato ha perforato ha squarciato lui che ha fallito lei che non è più porca miseria now unto you falls a grievous chore who carries blame for what fate had in store ragazzi io non ho non ho purtroppo le conoscenze linguistiche atte a potervi spiegare al 100% la bellezza di questa filastrocca in inglese è di una poetica eccelsa eccelsa oh non è shakespeare va bene ma è veramente di altissimo livello di altissimo la grammatica il registro ma la ritmica porca miseria è bellissimo in inglese leggiamo in italiano la bestia che i denti nella sua carne ha affondato colui che ha fallito colei che è ciò che è stato ora vi aspetta un compito in grato di chi è la colpa per ciò che ha stabilito il fatto madonna madonna questa enigma ragazzi quante belle non era così bello non era così bello nell'originale Silent Hill non era così bello quindi in questo enigma le cose sono andate così c'è una fanciulla sotto l'albero che si fa i cazzi suoi molto lontano c'è un bel fiore no? rimettiamolo com'era ci raccom- nooo non posso non posso posso metterlo su ovviamente ma non posso vabbè non lo posso rigirare comunque non c'ho manco il mouse per farvi vedere l'uomo era lontano la fanciulla si faceva i cazzi suoi e lontano c'era un fiore l'uomo si avvicina con la spada verso la fanciulla la fanciulla si spaventa scappa indietro vicino al fiore ma sotto al fiore nascosto bastardo come dicevamo c'era il serpente il serpente che la morde e la fanciulla muore l'uomo non è stato in grado di difenderla perché a quanto pare l'uomo la fanciulla l'aveva vista non voleva attaccare lei voleva cioè scusate il serpente l'aveva visto lui non voleva attaccare lei voleva attaccare il serpente ma ha fallito e lei muore per il morso del serpente e in tutta questa triste storia in questa tragedia di chi è la colpa della morte della fanciulla del serpente che la morsa o dell'uomo che non volendo l'ha spaventata e l'ha spinta proprio in bocca al serpente di chi è la colpa che figata è ora questo mi incuriosisce molto perché sì questo enigma in un certo senso racconta le vicende reali avvenute tra James e Mary ma le racconta un po' diversamente perché alla fine Mary non muore per il morso del serpente muore per la spada di James o meglio viene morsa dal serpente ma prima che il veleno la uccida James la trafigge con la spada capite qual è la metafora qua il serpente il morso del serpente velenoso rappresenta la natura rappresenta la morte naturale la spada rappresenta l'omicidio Mary si ammala indubbiamente di una gravissima malattia che la sta portando alla morte l'avrebbe uccisa quella malattia ma non fa in tempo la malattia perché prima di essa la uccide James qui invece lei muore per il veleno e dicendo questo mi sono già mentalmente autocorretto ovvio che l'enigma dice così non mi tornava lì per lì ovvio che l'enigma dice così perché in questo momento in questo punto del gioco James è in un punto del suo viaggio in cui non ha ancora preso coscienza di quello che ha fatto noi sì perché abbiamo già giocato Silent Hill quindi sappiamo bene che alla fine è stato James ad ucciderla ma lui qui vi ricordate lui non è cosciente lui non ricorda di aver ucciso Mary prima ancora che la uccidesse la malattia per lui in questo punto del gioco Mary è morta di malattia lei è morta per il morso del serpente che bello ragazzi che bella maestria con cui questo enigma è stato costruito io spero di essere riuscito a farvi capire a trasmettervi la bellezza di tutto ciò e oh oh attenti tutti oh 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 ma di cosa stiamo parlando? di un enigma di un enigma di un coso che dovrebbe essere qui che prima di Silent Hill era qui solamente come ostacolo come sfida da superare per andare avanti semplicemente per fermare un attimo il giocatore allungare un po' la durata del gameplay dare un po' di longevità e un po' di sfida al giocatore qui cazzo si racconta una storia in poesia con una raffigurazione con le monetine che cambiano faccia che si spostano e come un teatrino con i burattini recitano una storia davanti ai nostri occhi ma ragazzi ma vi immaginate ma che io veramente ma vi immaginate chi avrà la fortuna di non aver mai giocato un Silent Hill di non aver mai giocato Silent Hill 2 un ragazzino di 16-17 anni di oggi che prende in mano questo Silent Hill 2 remake senza manco sapere di quello che parla senza manco sapere di tutte queste cose e vi verrà raccontata una storia così io sono felicissimo per voi veramente per voi che avrete questa fortuna di vivere una storia così bella e così profonda con un narratore così capace come questo Silent Hill 2 remake questo Silent Hill 2 remake ragazzi per ora è un narratore eccelso eccelso racconta la stessa storia con immenso rispetto con un amore per l'originale che mi spezza il cuore mi emoziona l'amore che dimostra verso l'originale non lo deturpa non gli manca di rispetto non non si arroga il diritto di cambiare come stanno le cose come invece si è visto in praticamente quasi tutti gli altri remake vedi tipo quello di Final Fantasy 7 che è veramente un insulto o a tanti altri che vabbè non li citiamo perché tanto poi so che si tira su solo che polemiche nei commenti e non voglio polemiche qui insomma mi emoziona veramente tanto vedere come questo remake sia una veramente una lettera d'amore costante a Silent Hill 2 e io che amo Silent Hill 2 non posso che esserne fiero orgoglioso e più che felice di questo remake veramente oh mi conoscete mi conoscete chi segue il mio canale mi conosce non so uno che lecca al culo perché deve lecca al culo so uno che ha iniziato una serie di The Last of Us e che dopo i primi 4-5 episodi ha iniziato a spalarci merda sopra fino alla fine proprio non me so non me trattengo le cose quindi non è che gli lecco il culo perché gli voglio leccare il culo è è di una bellezza allucinante è di una bellezza allucinante qui c'è stata raccontata questa storia stupenda me le cuffio come al solito mi abbandonano di chi è la colpa ragazzi di chi è la colpa di chi è la colpa per la morte di Maria per questa fanciulla che viene morsa dal serpente la colpa è del serpente che l'ha morsa o del nobile uomo con la sua spada tratta che la voleva difendere ma che non ce l'ha fatta e che anzi addirittura l'ha spaventata e l'ha spinta proprio in bocca al serpente di chi è la colpa per James in questo momento senza ombra di dubbio del serpente eh perché perché James ancora non ha preso coscienza di essere lui il colpevole di essere lui la causa della morte della fanciulla lui ancora dà la colpa al serpente il serpente la natura la malattia la morte naturale madonna ragazzi chiave dell'appartamento 201 mamma mia che tra l'altro guarda che bello dietro al numerino del 201 c'è l'albero della vita madonna che spetta io boh boh non pensavo mai che si potesse fare un remake di Silent Hill 2 meglio di Silent Hill 2 veramente io per ora ho amato tantissimo il remake che fecero di Resident Evil 1 mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto il remake di Resident Evil 2 ma in nessuno dei due mi sono mai sbilanciato a dire io a uno che non ha mai giocato Resident Evil gli consiglio questo remake piuttosto che l'originale perché secondo me malgrado il remake di Resident Evil o il remake di Resident Evil 2 siano veramente degli ottimi remake dei bei remake secondo me gli originali hanno ancora da dire la loro e non possono assolutamente essere sostituiti dal remake secondo me Silent Hill 2 è un capolavoro senza tempo ma sto remake lo sta superando e mi sta sempre più venendo voglia di dire se non hai mai giocato Silent Hill 2 forse forse ti conviene iniziare proprio con questo remake poi è indubbiamente bene che tu ti giochi l'originale perché ripeto è un capolavoro senza tempo di una bellezza mozzafiato ma porca troia questo remake ma porca troia questo remake a che livelli siamo io non lo so ragazzi vi ripeto non so se sono riuscito io ce l'ho messa tutta spero si sia visto spero si sia sentito ho cercato di veicolarvi tutta l'emozione che quell'enigma mi ha genuinamente e sinceramente suscitato io non recito non faccio le parti di quello che si sorprende per finta di quello che si spaventa per finta di quello che oh no 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 io cerco proprio di darvi me stesso al 100% senza maschere senza recite senza niente e è difficile però certe volte veramente comunicare tutto quello che provo tutto quello che sento cercando di spiegarlo a una persona che magari non lo sente non lo prova no? di dargli un po' della mia emozione non è facile e a volte mi rendo conto di non essere nell'altezza quindi boh spero di di esserci riuscito perché quest'enigma a me ha donato un'emozione meravigliosa è stato vi giuro ci sarei stato otto ore a fare quest'enigma a spostare quelle monetine a leggere quella cavolo di filastrocca strepitosa una poesia è quella lì non è una filastrocca è una poesia basta non me zitto più ragazzi fatemi salvare la partita fatemi zittare vi lascio liberi siete liberi fate del bene vogliamoci tutti bene andate pure chiudiamo questo episodio perché sennò viene lungo tre ore e non la smetto più nella prossima puntata andremo a vedere che cosa si nasconde nella stanza 201 la cui chiave ci è stata donata proprio dopo aver erroneamente scritto la conclusione dell'uomo con la spada la fanciulla la sua tomba e il fiore con il serpente madonna mia alla prossima alla prossima Grazie a tutti.